La seconda 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 D, ovvero è rivolto a tutti coloro, verso i quali si dice che venga rivolto un discorso Rifugio, cioè la ricerca di rifugio, preservazione e protezione Il Rab, cioè il Signore, ovvero colui che è educato a crescere, educa i corpi e gli anni E' una richiesta di rifugio nella Signoria di Allah e i confronto di tutta la creazione Malik il Nas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malik, Rab, Malik, Assessore Ilah il Nas, è il Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilah il Nas, ovvero il Dio dell'intelligente, delle persone, colui che viene adorato con amore e magnificenza Da cosa stai chiedendo rifugio? Dal sussurro, dal sussurro del diavolo che viene sussurra e poi sbarisce Nanti che viene avuta con il Signore Nanti che viene messa in un sogno Nanti che viene messa in un sogno E invece che vienezzata, in un sogno E qui viene inseritto in un sogno In un sogno che viene messa in un sogno E che rivolgo il sogno potrebbe pensare qualcuno che i diavoli sono solo parte dei geni nel momento in mezzo in cui ci sono diavoli sia tra i geni sia tra gli umani ma il shaitan è anche un shaitan al-raji addirittura i diavoli tra gli umani sono dei peggiore dei diavoli tra i geni l'imani per quale motivo? perché il shaitan ha detto che quello è un shaitan al-raji e il shaitan al-raji perché il diavolo tra i geni attraverso ilập ogni volta che av Mandau addirittura se diciamo che avязughi l-travi cı